In città mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao! Ciao! Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac! Sedia rotante. Tac! Posto per commensali che non ci sono. Tac! Tovaglia metro. Tac! 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 Piatto fabriano. Tovagliolo extra strong. Bicchiere di plastica. Tac! Vino cartonato. Tac! Spaghetti pronto uso. Contorno sul gelato. Tac! Tonno e grissini per tagliarlo. Tac! Tac! Oh! Questa sì che è vita. Tac! Artemio! Che ti è successo? Intossecazione. Gli hanno fatto pure la lavanda gasseca. Ma lei chi è? Non c'era posto e ci hanno abbenati. Sono contento che sei venuto a trovarmi. Come hai fatto a sapere che ero qui? Ho telefonato al residence. Mi hanno detto che ti eri sentito male. Tieni. Grazie a sei. Mi hai detto che cercavi il lavoro. Ti andrebbe di fare la gente. Poliziotto? Un lavoro di guardamento. Lo vittoria. Grazie a tutti.